Le luci abbaglianti vengono automaticamente abbassate quando la telecamera anteriore individua altri veicoli in avvicinamento nella direzione opposta, in caso di sorpasso o di accesso a una zona abitata. Le luci anabbaglianti passano quindi automaticamente alle luci abbaglianti. È possibile attivare questa funzione dallo schermo multifunzione e tramite l'accensione delle luci abbaglianti. Grazie a tutti.